Ci risulta un po' di fila in qualche farmacia, però tutto sommato le cose sono andate bene. Vedremo inizio settimana, io credo che ci sarà molto più pressione domenica, sul lunedì o oggi anche sabato, perché chiaramente venerdì era anche il giorno di fine settimana, quindi probabilmente c'era una pressione inferiore. Quindi monitoreremo molto bene oggi e domani e poi vedremo lunedì. Oggi noi abbiamo anche un sistema per cui se i medici del lavoro all'interno delle aziende fanno i tamponi possono inserirsi e iscriversi al portale, quindi possono anche fare subito l'inserimento nel portale che è quello che serve ai fini Green Packs. Quindi noi su questo siamo pronti ed è già stato fatto anche, quindi non c'è nessun problema per noi. Noi vorremmo capire cosa succede perché è chiaro che credo che solo la settimana prossima, inizia settimana prossima, si avrà il polso della situazione e capire effettivamente quanta pressione ci sarà e se il sistema riuscirà a reggere.